Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, grave lutto per il cinema e per le serie tv a 83 anni e, in circostanze misteriose, scomparsa la nota attrice Melinda Dillon, per chi non la conoscesse o semplicemente per chi non la ricordasse, diciamo che Melinda Dillon ha preso parte a film molto importanti, ne ricordiamo alcuni incontri ravvicinati del terzo tipo, Magnolia, e la ricordiamo anche per aver preso parte a serie tv come i genitori. Perché parlavamo di circostanze misteriose, perché Melinda è scomparsa il 9 gennaio, ma la notizia è stata divulgata soltanto nelle scorse ore. Amici di Youtube, vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video.